Questo è il Fiber Received dal Brasile, il Soma Fiber. Questo è il Fiber Received dal LabMines Canada. Comunque vivere vicino a un tetto in amianto significa essere sposti al rischio. Se io avessi saputo di fare la fine che ho fatto, io all'eterno non ci sarei andato. Si comincia a dire che lì si muore, che ci sono dei problemi grossi, che bisogna modificare radicalmente l'organizzazione del lavoro. La mescolanza amianto-cemento era business. La mescolanza amianto-cemento era un'evento. La mescolanza amianto-cemento era un'evento.